Diciamo che è stato un anno di passaggio molto importante, mi ha fatto fare un po' il salto di qualità, segnali molto buoni per l'anno olimpico e adesso sono veramente contento che queste attenzioni siano cresciute nei miei confronti, anche grazie a Gazzetta questi riconoscimenti veramente mi fanno piacere e mi caricano per l'anno prossimo. Tra l'altro quei successi insieme anche ad altri hanno impegnato un interesse a tono lo sport paralimpico, proprio in ottica Tokyo siete molto attesi. Sono veramente grato di aver contribuito a aver aumentato l'attenzione del mondo paralimpico perché veramente ne merita, ci sono degli atleti con delle storie fantastiche che parlano di quelle cose che sono di un altro mondo, sono veramente degli extraterrestri e l'anno prossimo ci saranno molte cose da vedere in Giappone.